Salve a tutti e ben agendo qui Luke e benvenuti questo è il nuovissimo contenuto multimediale SONO TORNANDO MERDE Oggi siamo sul nuovissimo videogioco StumbleGuys Quindi direi di iniziare subito E senza perdere il tempo mettiamo pure il piccolo la pesca Se no non si vede nulla Ok Tengo un po' di attesa per questo e 15 secondi, perfetto Allora, il videogioco che sarà scelto per noi Qual è? Qual è? Perfetto Scusate se lagga un pochino per la connessione Raga, penso sia la connessione perché il computer ce l'ho dalla madonna Ma io me ne frego Ok Eccoci, eccoci, eccoci Allora, non mi ha fatto mettere il nome all'inizio Quindi penso che il nome non si possa mettere Ops Ok No, che devo fare? Ragazzi, che devo fare? Ditemi voi che devo fare perché io Telepaticamente, ditemi che devo fare telepaticamente Ok Ok Allora, mi state suggerendo Ok Mi state dicendo di schippare le palle Perfetto Ok No, grazie Ma io non voglio Eh, sono una Sono una picchia sto gioco, raga Ma sono una Dai Ma cosa hai eliminato? Ma ero arrivato al traguardo Cosa hai eliminato? Ma brutto figlio di p***a Eh, scusate Eh, scusate Scusate Allora Ma mo mi fa ricominciare da capo Oppure Eh Ma posso Mi fa ricominciare da capo Oppure devo Devo Schippare Cioè, perché Se io sono morto Sono morto e basta Vero? Ma ragazzi Ci muoviamo? Io schippo, eh Schippiamo tanto che ce ne frega Ripartiamo Grazie Grave Titi Ti stimo tanto Grazie Grazie tantissimo Ok Ricerchiamo la nuova partita Vediamo se Ok Perfetto Non so perché Però si blocca sempre Se sta schermata qualche volta Laga un pochino Sono Spider-Man Ragazzi Ho fatto la cosa di Spider-Man Che bello Jungle Roll Che bisogna fare qua? Non mi dica che bisogna Arrivare a treguardo Ma io come faccio a correre? Cioè Devo premere Shift Oh no Oh no No ragazzi no No ragazzi Vi prego Ok Ma sempre qua finisco? Ma sembra Roblox Sto gioco Che non si finisce mai nulla Ma è ovvio Che vengo eliminato Ma cioè È ovvio Cioè Ma se sto gioco Sembra Roblox Che non si conclude mai nulla Sul Roblox Dio scusa a tutti Per i partecipanti Di Roblox Scusate Cioè Oh ragazzi Ma Che devo fare Non ci sto capendo Amazza Amazza Sono caduto nel lago Sono caduto un'altra volta Nel lago Basta che Basta cadere nel lago Madonna Santa Oh Ehi Eiam Cioè Ma ti pare Ti pare Che io vengo Vengo qualche volta Promosso Scusate Sono stato promosso Ovviamente Però Ti pare Che vengo Vengo mantenuto Che non vengo eliminato Ma ti pare Ma che cavolo Però Io mi tolgo Le cuffie Me ne vado Va bene Faccio così Faccio così Mi tolgo le cuffie Me ne vado Perché mi sono rotto Le scatole Ovviamente Il video Deve durare Un pochino Deve durare Un pochino Quindi purtroppo Non posso smettere Di registrare Adesso Allora Perfetto Riscuotiamo Allora Ci abbiamo 10 gemme 30 soldini 1494 Che saranno Allora Per me Sono tante Per voi Saranno pochissime Io sono una Pippa Sto gioco Ragazzi La prima volta Che ci gioco Pass No Non voglio No Non voglio Lo stampo Il pass Ma è gratuito Oppure Eh no È 1200 gemme No Eh raga Date No 1200 gemme Non Non voglio Andiamo sul negozio Vediamo se possiamo Comprare qualcosa Gemme No Ah le skin Non stiamo comprare niente Perché ci abbiamo Solo 10 gemme Allora Iniziamo Una nuova partita Oh Tra l'altro Sì lo so Non si chiedono mai Like Le iscrizioni Però visto che siamo A 50 iscritti Solamente Vorrei arrivare Magari a 100 Perché adesso Quando sto studiando Il corso Ecco lo Comincio a studiare Un po' Dopo questo video Però comunque Iscrivetevi al canale Iscrivetevi al canale E mettete like Il video E commentate Perché mi fa piacere I commenti ragazzi Ok No mi sa Ho sbagliato Ho Ho azzeccato Sì Sì Ho azzeccato Ah ma c'è il timer No non c'è il timer E raga Oh Grazie al bug Vedete che grazie al bug Siamo riusciti Benissimo Perfetto Lascia il traguardo Lo vedo Vedo il traguardo Vedo il traguardo Ragazzi Ragazzi sto vedendo il traguardo Vedo il traguardo Vedo il traguardo Vedo il traguardo Oh raga Fatamario Valtraguardo Perché sennò Veramente Chiudo il video Chiudo il video Non registro più Sto gioco di merda Qualificato Yes 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 Sì 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 La prima volta Che sono stato qualificato Che bello Oh Chi c'è Bello Perfetto Ragazzi Andiamo alla grande Ragazzi Allora Io sono una bippa Ma sono stato qualificato Comunque Perfetto Altro gioco Va bene Floor flip Che è una scioglilingua Questo Non credo che sia Una scioglilingua Però vabbè Allora Non dobbiamo carri Nell'acqua No non è acqua Stupido Lo sopivo Ma io intanto Ma io intanto ho messo La visuale Qua No Vai Ragazzi Lo finiamo Lo finiamo Sto gioco Ragazzi Non sto capendo Nulla Ma che cosa Scusa Non stavo capendo Non so Stupido Non stavo capendo Nulla Ok Chi ragazzi È Fall Guys Fall Guys Ragazzi Palesemente Fall Guys Ragazzi E non so se Sta cosa si può fare Scusi Grande Ok Devo saltare Devo saltare Ma la cosa Porta È che non c'è Manco il tutorial Qua Cioè Che io Va bene Che io Li so I tasti Però comunque Se io fossi stato Uno giocatore Che non sapevo I tasti Che era La prima Armi Che facevo Non sapevo giocare Cauto un'altra volta Mannaggia Allora Perfetto Ah è In sequenza Eh Mannaggia Però Non è possibile E Yam E Sui E Certo E certo Perché no Uno viene Qualificato Poi viene Eliminato Subito Ovviamente Ragazzi Tutta Sta Fatica Ovviamente No ma ci mancherebbe pure Ma io non è che vado a fare partire Che poi Ma manco tradotto bene sto gioco Mi sa Ok Riscuotiamo i premi Grazie No 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 Eh Mi sa che devo bippare lo schermo Eh Ok 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 Togliamo la pubblicità Togliamo E facciamo così No Non giochiamo Prima Premi gratis Ok 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 Quindi un premiolo Rara Rara E con E ho capito Però Allora C'era un passo Da quella rara No Non voglio vedere il video Grazie Gratis Gratis No gratis Però Non vedete i video Allora Oh però Mi sta piacere sto gioco E che è stato Ma Oh Ma È stato un fischetto Che che è Ok mi sta piacendo molto Sto gioco ragazzi Se volete possiamo anche giocarlo Magari in live Quando C'erano la connessione wifi Di nuovo con la di prima Ma di nuovo Ma Ah Io ti metto pure questo Ok Ok Non è possibile Una cosa del genere Ok dobbiamo aspettare No mi spingete giù Bruttisto Scusate Eh io sono molto competitivo E li mor Va bene Limo Ok Scusate per le parole brutte Che sto dicendo Le biperò Tutte No 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 Fammi saltare Fatemi saltare Ah ma funziona a peso C'è più persone ci vanno in un lato E più persone Più persone vanno in un lato E più quel lato si fa E' ovvio Era pure ovvio No No ci riusciamo A sta botta ci riusciamo Ma Ma come è possibile Cioè come faccio A sta botta ci riusciamo Ragazzi Non mi prego niente Che non ci riusciamo Stavolta Da un pugno alla schifania Ok perfetto Ragazzi Ragazzi non è possibile No 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 vai via Ragazzi io posso concludere questo video Sicuramente sì perché mi sono rotto le scatole Ho quasi rotto le cuffie nuove che mi sono postate un botto Quindi rimettiamoci Io ci sono un'opinione sul gioco Una stella Ma una però è una sola Vabbè ragazzi Io direi di concludere qua Iscrivetevi al canale Attiva la campanellina Ma soprattutto iscrivetevi anche un commento E like Perché mi fa piacere vedere sia like Sia commenti Sia iscrizione Quindi iscrivetevi al mio canale Sia al canale secondario Che trovate sui canali Si chiama Luke Ok Ho scritto male Io vi saluto Luke vi saluto E si va Out ragazzi